Oggi c'è stata la manifestazione del coordinamento degli studenti medi, la manifestazione è partita alle 9 da Piazza L'Erbe, è partita con un'iniziativa presso la sedella PS dove abbiamo attaccato degli striscioni, dei manifesti dove c'era scritto che noi vogliamo un trasporto pubblico e gratuito perché già rientra il nostro diritto allo studio. La manifestazione poi è proseguita per le varie piazze del centro di Padova, abbiamo coinvolto tutti gli studenti dei vari licei mondigliani, Uriel, del Valle, sono scesi abbastanza persone, pensiamo se è andata bene la giornata, che questa cosa possa proseguire a buon rendere e che possiamo ottenere ciò che chiediamo. La manifestazione è terminata poi in Piazza L'Erbe con un piccolo concerto dei ragazzi all'Hipop Lab del CSO Pedro e il prossimo appuntamento sarà un'assemblea presso il liceo Uriel.